finalmente anche il mio turno posso parlarvi della mia esperienza con iphone 13 pro dopo qualche mese di utilizzo io ve lo dico subito secondo me è il miglior iphone di sempre e in questo video cerco di farvi capire perché se c'è una cosa che amo da impazzire di questo iphone è sicuramente lo schermo il notch è stato ridotto e arriva finalmente il promotion display grazie apple il promotion display è quella funzione che permette al refresh rate dello schermo di passare dai 60 hertz fino ai 120 e che dirvi utilizzare iphone con questa fluidità veramente non ha prezzo ho provato tanti android con schermi a refresh rate elevato nel corso del tempo ma le animazioni la cura i dettagli che porta apple secondo me sono ancora inarrivabili da qualunque altro produttore android il promotion non forza costantemente 120 hertz ma il software a gestire quando l'operazione che si sta svolgendo in quel momento ha bisogno di quanti hertz ad esempio se stiamo leggendo una notizia in rete il refresh rate sarà più basso di quando invece giochiamo con l'iphone questo per garantire una durata della batteria sicuramente maggiore io venivo da un iphone 11 ho sempre sostenuto che le cornici un pochettino più spesse attorno al display non davano fastidio e sì non davano fastidio finché non ho visto questo schermo con un pannello di questa qualità è veramente un piacere per gli occhi godere di film serie tv o addirittura video su youtube sembra tutto qualitativamente migliore collegate iphone poi ad un paio di airpods vi sdraiate sul letto e siete a cavallo niente e nessuno riuscirà a distrarvi dalla visione ve lo assicuro il cuore pulsante di iphone 13 pro è il chip proprietario apple a 15 bionic non importa ciò che vorrete fare con il vostro iphone lui sarà sempre scattante e pronto a eseguire ogni vostro ordine veramente metterlo sotto torchio è veramente difficile che vogliate giocarci che vogliate guardarci film per ore che vogliate fare tanta navigazione con il gps davvero efficienza al primo posto efficienza è proprio la parola giusta perché la potenza è nulla senza il controllo così diceva un vecchio saggio no e a controllare tutta questa potenza troviamo una batteria in grado di promettere veramente quasi miracoli l'autonomia è forse l'aspetto in cui questo iphone è migliorato di più secondo me durando adesso quasi due ore più del predecessore e questo aspetto può esservi veramente incredibilmente utile se magari vi trovate fuori casa per una gita e volete fare tante foto o tanti video foto video per quanto mi riguarda è proprio questo il punto più importante su uno smartphone per me ad oggi la fotocamera e su iphone 13 però la fotocamera mi ha sorpreso incredibilmente la fotocamera è diventata così completa di funzioni ormai è quasi superfluo per un emergente acquistare una fotocamera per scattare foto oppure per registrare video ormai con questo iphone 13 però si possono tirare fuori degli scatti veramente incredibili ed è impressionante pensare come questo oggettino che sta facilmente in mano o nella tasca dei jeans possa offrire performance fotografiche così interessanti ovviamente le foto che state guardando in questo momento sono state studiate e gestite le luci in maniera particolare per tirar fuori il risultato migliore possibile non sono foto punta e scatta questo per dimostrarvi fino a che punto può spingersi questo iphone 13 però i sensori sono molto più grandi della precedente generazione adesso entra il 47 per cento in più di luce pensate e questo si traduce in scatti con poca luce con meno rumore e scatti con tanta luce veramente assurdi c'è ma che ve lo dico a fare la fotocamera ultra wide è stata completamente stravolta adesso risulta utilizzabile in qualunque condizione di luce ma veramente e anche per i video finalmente il sensore poi è stabilizzato anche nella versione pro non max quindi quella che ho io a differenza dello scorso anno che come ben sappiamo era stabilizzato il sensore soltanto sul 12 pro max apple ha introdotto pure la modalità macro via software che sfrutta la lente grandangolare per funzionare questa modalità permette all'iphone di mettere a fuoco un soggetto che si trova a due centimetri di distanza cioè avvicinarsi così tanto a un fiore o un materiale qualsiasi permette di vedere secondo me la fotografia sotto un altro punto di vista e non importa quanto sia inutile questa funzione la reazione dei vostri amici sarà sempre wow interrompiamo la trasmissione per parlarvi di un importante avvenimento finalmente è possibile trasferire chat whatsapp tra android ed iphone senza impazzire tutto ciò grazie a tenorshare e il suo software i care phone i care phone è il modo più rapido per trasferire o eseguire backup e ripristinare dati di whatsapp da uno smartphone all'altro è disponibile sia per mac che per windows e vi metterla di trasferire appunto le chat eseguire backup con un semplice click e tenerli archiviati all'interno del software e anche ripristinare completamente le chat whatsapp che fanno parte al backup che magari avete fatto tempo prima ovviamente potete ripristinare quel backup anche se l'avete fatto da uno smartphone android potete ripristinarlo su un iphone e viceversa e poi la cosa molto molto comoda è l'esportazione rapida delle chat whatsapp usare i care phone è veramente semplicissimo vi basta connettere due telefoni al computer abilitare il tutto e poi semplicemente schiacciare su avvia trasferimento sul sito ufficiale di tenorshare è anche presente tutta la guida dettagliata passo per passo che vi aiuterà nel processo quindi veramente sbagliare è impossibile io ovviamente non posso far altro che consigliare questo software se avete necessità di trasferire chat whatsapp da un iphone ad un android o viceversa se volete approfondire i link ritrovate in descrizione e adesso vi lasciamo al video buona visione calmi però perché non è ancora tutto adesso il sensore zoom arriva fino a 3 per ottico e nei video si possono switchare tutti e tre i sensori per tirare fuori dei risultati veramente incredibili un'altra cosa che mi ha sorpreso è la stabilizzazione generale di questo smartphone fare video è veramente un piacere e anche la lente zoom è davvero ben stabilizzata e non me lo sarei non me lo sarei aspettato apple introduce anche via software degli stili fotografici personalizzati con questi nuovi iphone 13 forse perché gli utenti si sono lamentati spesso della tonalità colore delle fotocamere di iphone adesso si può scegliere tra cinque stili diversi base alto contrasto brillante caldo e freddo attenzione perché non sto parlando di filtri ma di stili fotografici quando sceglierete uno di questi stili non potete più toglierlo in post produzione ormai gli smartphone a questo livello scattano tutti i foto incredibili è inutile prenderci in giro dai poi è il gusto del cliente a decretare il vincitore iphone scatta foto molto fedele alla realtà per dire i samsung hanno colori un pochettino più saturi e google pixel hanno un contrasto magari più elevato ma apple grazie agli stili fotografici ha trovato il modo di portare tutti gli stili che piacciono agli utenti in un solo smartphone bene ma adesso parliamo di una funzione alla quale apple tiene veramente tantissimo la cinematic mode che ha fatto tanto parlare di sé questa funzione software attenzione permette di sfocare lo sfondo e far concentrare lo spettatore sul soggetto più importante e non ho detto soggetto in primo piano detto più importante sì perché iphone capirà magari chi tra i due soggetti in una sola scena sta parlando e metterà il fuoco su di lui per poi tornare col fuoco sull'altro soggetto quando la parola passerà all'altra persona spero di essere stato chiaro avere tutto questo potenziale nel palmo della mano è veramente una caratteristica che non deve assolutamente essere sottovalutata la cinematic modo è una funzione interessante ma deve ancora essere migliorata non può essere sfruttata in ottica professionale però sicuramente una funzione molto carina in via di sviluppo che è utile per dare una maggior qualità ai contenuti social e magari può essere carina da sfruttare anche per rendere più interessanti i contenuti che magari andiamo a realizzare in vacanza come ricordo se questa funzione va affiancata alla modalità ritratto nelle foto e verrà sviluppata come di conseguenza non oso immaginare tra un paio d'anni i risultati che si potranno ottenere con la fotocamera di iphone lo stile cinematografico fa sempre cola è inutile negarlo e apple lo sa tanto da investire in maniera importante sotto questo aspetto e iphone diventerà presto la fotocamera di riferimento per tanti youtuber emergenti e non più di quanto non lo sia già la cinematic mode è una funzione sicuramente interessante e destinata a migliorare ancora di più con le nuove lenti che arriveranno con i prossimi iphone ma anche con degli aggiornamenti software negli iphone che attualmente radottano il più grande limite secondo me però è la risoluzione in quanto si ferma soltanto a 1080p 30 fps mi sarebbe piaciuto sfruttarla anche in 4k ogni tanto quando si indossano gli occhiali la funzione commette degli errori e ad esempio questa grip è registrata da iphone 13 pro in cinematic mode potrei stare qui ancora per ore a parlare di quanto sia potente questo smartphone di quanto faccia bene le foto di quanto la batteria sia ottima veramente è quasi impossibile per quanto mi riguarda a trovargli un difetto chi mi conosce sa che non sono un fanboy apple ma quando dico qualcosa lo dico perché lo penso davvero e questo secondo me come detto in apertura è veramente il miglior iphone di sempre sicuramente costa tanto sicuramente non è adatto a tutti sicuramente le novità rispetto alla precedente generazione ci sono ma per l'utente standard l'utente comune sono passate un pochettino in sordina perché sinceramente all'utente standard cosa gliene frega dell'apple progress tant'è che io non ne ho voluto parlare appunto in questo video ma come detto in descrizione vi lascio il video che ha realizzato simone cioè in cui spiega tutto per filo e per segno secondo me dovreste andare a recuperarlo fatemi sapere se acquistereste o se avete già acquistato iphone a 13 e in quale versione io sono luca crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale youtube ciao